Si terrà sabato 29 luglio allo Stadio del Mare di Pescara la prima edizione della Notte dei Serpenti, evento promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo e organizzato in collaborazione con il Comune di Pescara, con l'obiettivo di celebrare la cultura e la musica tradizionale abruzzese. È una parte di un programma di eventi che hanno però un grande significato culturale nella riscoperta e tradizione della nostra identità culturale che servono per promuovere in termini di sviluppo economico e turistico il nostro territorio. Transumanza si impreziosisce di questo evento che abbiamo presentato che è la punta del programma La Notte dei Serpenti, passiamo per il Festival del Medioevo e arriviamo al Festival d'Annunziano, chiaramente con la perdonanza, con tutti gli altri festival che ci sono in giro per l'Abruzzo. Cioè oggi l'offerta culturale della Regione Abruzzo io credo che sia tra le migliori e più puntuali e ricche dell'intera nazione. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Sindaco di Pescara Carlo Masci e il Maestro Enrico Melozzi, ideatore e direttore dell'evento. Sul palco si esibiranno Giussi Ferreri e Gianluca Grignani, insieme a tanti artisti e musicisti abruzzesi accompagnati dall'Orchestra dei Serpenti. Ci si attende una grande serata, un grande concerto con tantissimi musicisti e artisti sul palco che rendono un omaggio doveroso, tardivo, ma finalmente arriva questo bellissimo omaggio alla musica popolare abruzzese, alla nostra tradizione e l'obiettivo è quello di trasformare quelle melodie senza toccarle ma semplicemente con gli arrangiamenti in qualcosa che aumenti la percezione poetica del nostro territorio, perché noi siamo un territorio che si uscita molta ilarità e questa è una cosa molto bella, perché quando uno dice vengo dall'Abruzzo c'è subito un sorriso dall'altra parte, però io vorrei che al posto di quel sorriso ci fosse un'espressione di stupore ah vieni dall'Abruzzo, questo io vorrei, non abruzzo che bello, vorrei proprio che ci fosse questo stupore ah l'Abruzzo quanto è bello, quanto è poetico, quanto è profondo, ecco vorrei elevare, innalzare la nostra tradizione popolare, vorrei che gli abruzzesi fossero sempre più fieri di questo nostro patrimonio culturale e che la nostra lingua regionale diventi una lingua conosciuta anche fuori dalla regione e venga apprezzata come lingua poetica. I primi ad avere aderito sono Giussi Ferreri e Gianluca Grignani con cui faremo due tipi di esperimenti diversi, Giussi Ferreri canterà proprio in abruzzese e quindi questo farà capire al popolo delle radio, al popolo di tutti quelli che seguono questa musica leggera che l'abruzzese è una lingua assolutamente pop e poi invece proveremo a fare il discorso contrario cioè dialettizzare il pop, cioè cercare una chiave poetica per cantare delle canzoni famose di Gianluca Grignani nella nostra lingua dialettale. Grazie a tutti!